salve a tutti ragazzi video misterioso registrato nei cieli della russia questo video è stato registrato il 4 di marzo del 2022 come ben potete notare si vede questo strano fenomeno che poi sembra una croce ragazzi quindi questo è il motivo del misterioso perché assume la forma di una croce quindi ma non so se è un fatto dovuto a una rifrazione solare però vedete c'è questo fascio che scende questo qui orizzontale quindi non lo so se è tutto proprio frutto diciamo l'orizzonte potrebbe essere tranquillamente il sole però il fascio che scende poi perpendicolare nel mare non lo so ragazzi mi pare troppo perfetto poi posso anche sbagliare comunque fatto sta che rimane molto molto misterioso quindi secondo voi ragazzi è una rifrazione del sole oppure c'è qualcosa di più cioè un segno divino che ne so o qualche cosa che non ha spiegazione non lo so perché qui le teorie potrebbero essere tante c'è chi potrebbe dire che è anche un ologramma tanto per fare un esempio oppure chi potrà dire no sarà semmai il sole che ha fatto questo gioco di luci però non lo so mi sembra un pochino strano però potrebbe anche essere un fenomeno meteorologico come potrebbe essere una cosa divina quindi le teorie sono tantissime tantissime come sempre ragazzi lasciate il commento ditemi ognuno di voi che cosa ne pensa è un fatto di una rifrazione del sole un fatto meteorologico un segno divino un ologramma o cosa ragazzi lasciate il vostro commento e come sempre dico ragazzi al prossimo video ma soprattutto ragazzi al prossimo mistero ciao